La sensazione è positiva, ho fatto 40 minuti, 60 minuti alti livelli, va bene dai, i muscoli hanno reagito bene, andiamo avanti. Hai trovato le sensazioni del campo? Sì dai, adesso, anche se era comunque una partita contro una squadra di bassa lega, però ci hanno dato filo da torcia almeno nei primi 20 minuti, è stato un buon test. La sensazione è molto positiva perché l'abbiamo presa molto seriamente, abbiamo fatto il gol subito l'1-0, poi l'anno pareggiato e dopodiché abbiamo trovato il secondo o il terzo gol subito e questo ci ha agevolato il compito. Dopo il 3-1 non c'è più stata partita, abbiamo condotto bene le danze, il 5-1 la pausa, siamo stati veramente bravi a vincere la partita tranquillamente. Un complimento perché tante volte non è facile arrivare sui campetti del genere, tanto faccio i complimenti perché è un bellissimo campo e vince la partita del genere. Pertanto ancora bravi i giocatori, è importante passare il turno per la società. Sono 9-3, tante volte io mi ci metto anche dall'altra parte, ho detto ai ragazzi mancano 10 minuti, forse di non esagerare, di tenere un po' stesso di palla e così è stato. Abbiamo veramente dato una dimostrazione di classe.